Dati Svimez 2020, dati per il mezzogiorno, aumenti il divario fra nord e sud, con noi Giovanni Condorelli, segretario confederale con delega per il mezzogiorno del sindacato UGL. Sì, buongiorno, purtroppo ce l'aspettavamo, ogni anno i dati dello Svimez non sono incoraggianti e anche ieri che c'è stata la rappresentazione appunto del rapporto 2020 abbiamo potuto prendere atto che la situazione rispetto agli altri anni ha peggiorato ancora di più perché sappiamo tutti dovuta a questa pandemia che quasi un anno ha coinvolto l'Italia. Questo ha fatto emergere ancora di più le differenze tra nord e sud, malgrado nel primo lockdown il sud sia stato perlomeno riparato da quella che è stata l'emergenza sanitaria rispetto al nord, tuttavia le ripercursioni e le conseguenze sul piano economico sono state veramente devastanti. Interi settori produttivi che scompaiono, centinaia e migliaia di posti di lavoro che si perdono, i giovani che veramente scoraggiati non vanno più alla ricerca dei posti di lavoro, quindi è una situazione veramente drammatica che non fa, almeno nei prossimi mesi, fa intravedere qualcosa di positivo. A questa situazione certamente pesa anche l'esigenza e il rischio di disordini sociali, di manifestazioni così come sono state avvenute fortunatamente nella stragrande maggioranza e manifestazioni pacifiche, ma di tutte le categorie a testimoniare la grande difficoltà che sta vivendo il paese, anche perché dobbiamo dire che tutte le risorse che sono state promesse dal governo purtroppo ancora oggi stentano ad arrivare o se arrivano sono talmente insufficienti che non garantiscono i negozianti, i commercianti, tutti i vari settori della nostra economia. Un dato su tutti per dimostrare come purtroppo questi ritardi poi incidono nella vita di ogni cittadino, di ogni lavoratore dipendente, ad esempio che la Cassa di integrazione in deroga ancora è ferma a maggio, quindi come vedete la situazione è drammatica proprio perché questi ritardi non giustificati rendono tutto più difficile. È davvero complicata la situazione drammatica a tutti i livelli nel nostro paese, in particolare al sud. Dottore Condorelli, lei che ne pensa del recovery fund, di questo ristoro che dovrebbe arrivare a cascata in tutti i paesi europei da parte dell'Europa stessa, questi finanziamenti che dovrebbero aiutare ossigeno all'economia europea e italiana? Intanto c'è un gran partire, mi pare che di progetti non ne stiamo sentendo parlare, c'è un grande lavoro che stanno facendo le regioni, il governo nazionale, perché effettivamente c'è un'immensa somma di denaro che arriveranno nei vari paesi europei, noi parliamo della nostra Italia che dovranno veramente rappresentare delle risorse per ricostruire l'Italia del futuro, perché noi dobbiamo dire che stiamo uscendo da una guerra, siamo ancora in piena guerra e storicamente se ricordiamo i nostri padri del dopoguerra riuscirono a creare sulla distruzione una grande nazione a tal punto che l'Italia si collocava negli anni 60-70 tra le prime tre potenze mondiali. Ecco, la possibilità nella drammaticità della situazione di avere tutti questi investimenti dovrà responsabilizzare tutta la classe di reggenda a partire dalla politica italiana per disegnare l'Italia del futuro partendo da un equilibrio interno dove il sud possa finalmente avvicinarsi in maniera interessante, in maniera sempre più vicina a quello che è il nord, perché per rimarcare uno slogan a noi cari come UGL, se non riparte il sud non riparte il nord e quindi non riparte l'intera Italia. Quindi l'augurio che facciamo è che questi investimenti possano veramente disegnare l'Italia del futuro, un'Italia di benessere e soprattutto dove le classi più deboli finalmente possono avere tutti quei benefici che ad oggi non hanno e che rendono il nord e il sud ancora molto distanti. Ringraziamo il dottore Condorelli, segretario confederale e con delega per il Mezzogiorno dell'UGL per essere stato con noi. Grazie.